È una storia senza fine, un contenzioso giudiziario che ormai va avanti da anni, quello che ruota attorno all'archivio Vasari, ed adesso si tornerà di fronte ad un giudice, questa volta per stabilire il prezzo dell'esproprio. Questa è infatti la richiesta degli ex proprietari, i quattro fratelli Fessari, che hanno nuovamente depositato un'istanza alla Corte d'Appello di Firenze per chiedere una valutazione economica del prezioso carteggio. La famiglia, già un anno fa, aveva presentato una richiesta del tutto analoga, precedendo però il ricorso al TAR della Toscana contro l'esproprio dell'archivio da parte del Ministero dei Beni Culturali, che aveva poi respinto il ricorso perché ritenuto inammissibile e infondato. Lo Stato era così rimasto proprietario delle 31 filze custodite nella Casa Museo di Giorgio Vasari ad Arezzo. La richiesta di una valutazione economica delle storiche carte era così rimasta di fatto congelata, in attesa che il Tribunale amministrativo si pronunciasse sull'esproprio, istanza adesso nuovamente depositata. Attualmente è di 1.544.000 euro l'indennizzo stabilito dal Ministero e dalla Direzione Generale Archivi, una cifra che è stata sempre contestata dagli ex proprietari. 200 euro, vale così un documento del Michelangelo. Sono 6.600 fogli. All'incirca, se si fa la divisione, è qualcosina meno, a dire il vero. Grazie. Grazie. Grazie a tutti